Come funziona la chitarra elettrica? È un video, come dire, nato spontaneamente perché ho dovuto riparare la mia Les Paul non funzionava più molto bene quindi l'ho aperta tutta ho guardato bene cosa c'era dentro e con la curiosità che mi ritrovo ho voluto capire come funzionasse quindi io l'ho sempre suonata senza capire effettivamente i vari circuiti e tutte le parti elettroniche vediamo insieme come funziona In questi giorni mi è capitato di fare una revisione della mia chitarra elettrica che è una Les Paul della Epiphone ne ho approfittato per studiare un po' i circuiti interni vi presento quello che ho potuto rilevare perché ha a che fare anche con i filtri che abbiamo visto il sistema che utilizzano le chitarre per prelevare il suono delle corde è quello di usare dei pick up i pick up non sono nient'altro che delle bobine molto particolari queste bobine sono realizzate con dei magneti attorno a cui c'è un filo avvolto e vengono messi proprio sotto le corde metalliche quindi il filo avvolto è la nostra bobina qui c'è un magnete che genera un campo magnetico che va a toccare, a intrecciarsi con la corda di metallo quando la corda di metallo oscilla perché la tocchiamo queste vibrazioni, queste perturbazioni del campo magnetico vengono rilevate dalla bobina che genera un segnale elettrico sono stato a vedere che tipo di segnale come funziona il tutto poi ve lo faccio anche vedere con l'oscilloscopio esistono vari tipi di pick up i primi inizialmente prendevano una barretta di metallo magnetizzato o delle calamite che venivano imposte sotto le sei corde ed erano tutte avvolte con tantissime spire quindi creando una specie di pacchetto da cui poi uscivano i due fili della bobina che era stata creata sopra questa bobina passano le sei corde della chitarra quindi ogni vibrazione viene captata si viene a creare un po' una somma di tutto quello che succede il passo successivo è stato creare dei pick up in cui la barretta aveva dei nuclei avvitabili quindi avvitati dentro sempre magnetici che potevano essere fatti salire e scendere con un cacciavite quindi sono come delle piccole viti avvitate dentro sono dei cilindretti magnetici avvitati dentro il magnete principale sempre con l'avvolgimento singolo e i due fili che escono in questo modo è possibile avvicinare allontanare i vari poli per far sì che si possa captare meglio le vibrazioni a seconda della corda perché alcune sono più vicine e altre più lontane questo qua è il sistema utilizzato per esempio nelle fender stratocaster questo tipo di pick up sono quelli single coil troviamo poi altre configurazioni ci sono pick up con magneti singoli quindi sono delle singole barrettine magnetizzate queste vengono collegate utilizzando sempre del filo elettrico possiamo avere dei collegamenti fatti in serie quindi si passa da uno all'altro creando una specie di anello in questo modo abbiamo il filo d'ingresso il filo di uscito del nostro pick up altrimenti abbiamo anche un altro sistema che viene usato è quello di metterli in parallelo quindi ho i tanti miei magneti ho tanti avvolgimenti singoli e questi vengono messi in comune andando a unire uno dei due fili da una parte e l'altro filo lo faccio qua spero si capisca vengono presi insieme e metto tutte le bobine in parallelo una rarità anzi era una delle mie invenzioni da giovane ma non sono mai riuscito poi a realizzarlo anche perché poi ho saputo che probabilmente Pin Floyd e Pino Daniele avevano anche loro un pick up di questo tipo con bobine indipendenti quindi sei segnali indipendenti in questo modo potete trattare le vibrazioni delle sei corde in modo indipendente quindi è una cosa del genere solo che invece che mettere insieme i fili sono portati tutti fuori in modo da avere i sei segnali singoli per fare elaborazioni particolari bene quindi questa è la parte di rilevazione ah scusate manca una parte importante questi sono i pick up singoli poi ci sono quelli chiamati unbucking gli unbucking sono realizzati con un pick up singolo quindi abbiamo il pick up singolo messo in questo modo con i suoi prolungamenti magnetici che vanno verso la corda questo è affiancato a un altro pick up identico sempre con dei magneti che però vengono anche schermati perché non devono rilevare le vibrazioni della corda con degli avvolgimenti opposti quindi da una parte vado a farlo così e dall'altra parte al contrario in modo che tutti i disturbi elettrici per esempio della rete di alimentazione o altri disturbi che potrebbero arrivare vanno a prendere tutti e due i magneti e vanno a creare dei segnali che poi si annullano per evitare che la corda vada ad annullare il segnale generato la parte che serve per annullare il rumore viene schermata in modo che non possa rilevare la corda quindi sono un po' più complicati dovrebbero essere stati introdotti la prima volta dalla Gibson difatti sulle chitarre Les Paul Gibson e anche come la mia non hai più trovati i pick up di questo tipo quindi dovrebbero essere un po' più pregiati poi qui c'è tutta una teoria dove vengono messi i pick up i pick up vengono messi solitamente al collo o al ponticello quindi se questa qui è il manico della vostra chitarra quindi questo qui è poi il corpo quindi la mia è fatta in questo modo circa adesso non è molto bellissima comunque avete idea questo qui è il ponte dove sono collegate le corde i pick up di solito si mettono o al collo quindi qua o vicino al ponte cosa cambia mettere da una parte e dall'altra cambiano i suoni che vengono captati questo qui è il manico della chitarra quindi qui abbiamo il corpo lo faccio molto schematizzato e qui abbiamo il ponte noi qui abbiamo le corde che sono tese le corde possono vibrare in vari modi abbiamo la vibrazione fondamentale che è quella singola quindi è come una fune che è collegata tra due estremità e la fate uscillare abbiamo poi una oscillazione detta della seconda armonica quindi fatta in questo modo che si va a stabilire tra il punto A e il punto B con un'onda che sale e scende quindi qui abbiamo una semionda e qui ne abbiamo una completa quindi questa qui è la seconda armonica poi abbiamo la terza armonica dove abbiamo più difficile da disegnare quindi tre sali e scendi quindi questa è la terza e poi la quarta dove abbiamo due onde complete oltre alla quarta armonica sono irrilevanti come ampiezza del segnale tra l'altro poi sull'oscilloscopio si vedono anche cosa succede cambiando la posizione del pick up se io lo metto qui al ponte riesco a beccare bene o male tutte e quattro le armoniche quindi il suono è più ricco perché riesco a beccare un po' l'oscillazione della prima l'oscillazione della seconda armonica della terza e della quarta più o meno tutto è lo stesso livello questo pick up quello al ponte quindi al bridge è quello che si usa di solito per gli assoli perché è più ricco di suoni l'altro invece è quello messo al collo di solito viene usato più per la ritmica qui è più forte la parte fondamentale soprattutto perché qui ha un'ampiezza maggiore di oscillazione quindi è predominante il segnale della oscillazione fondamentale qui ci perdiamo però per esempio le armoniche più alte soprattutto la quarta e magari la terza che arriva un po' più bassa però abbiamo segnali più alti poi entro che frequenza vanno questi segnali questo è importante per vedere la parte elettrica dopo vanno da qualche decina di hertz diciamo da 10 hertz fino alla frequenza massima di 7 kilohertz la chitarra si ferma un po' prima ma 7 kilohertz è dovuto a tutte le varie armoniche che vengono generate vediamo la parte elettrica smontando la mia chitarra ho trovato allora i pick up da me ho degli unbucking con un filo collegato al comune lo metto segnato come ground questo segnale arriva a un gruppo di potenziometri e condensatori che sono collegati in questo modo abbiamo un potenziometro che viene usato per il volume di solito questo è da 500 kilo ohm ed è logaritmico perché il volume che noi percepiamo con l'orecchio non è lineare ma è logaritmico quindi dobbiamo aumentarlo raddoppiarlo di volta in volta perché a noi appaia come lineare quindi progressivo quindi è collegato questo potenziometro tra il pick up e ground e il segnale viene preso qui in mezzo questo qui è il segnale che potremmo far andare all'amplificatore l'altro potenziometro che di solito è collegato nelle chitarre come la mia quindi tipo l'espole crea un filtro passa alto qui abbiamo infatti un condensatore che vale 22 nanofarad e un altro potenziometro da 500k questa volta lineare perché non è necessario per il tono che sia logaritmico anzi fa peggio collegato anche questo tra segnale e ground il mio ha un'estremità libera ho corretto il circuito facendo in questo modo in modo da non avere estremità libere che potrebbero captare rumori quindi questo qui crea un filtro passa alto se voi andate a farvi conti delle frequenze si può fare il conto della frequenza di taglio questo è pari a ricordandosi le formule dei filtri passa alto passa basso 2 pi greco per r per c se qui come r metto 500k e metto il valore del condensatore 22 nanofarad trovo una frequenza di 14 hertz quindi fa passare quasi tutto ma noi regolando il potenziometro possiamo far scendere il valore della resistenza se arrivo a un kilo ohm mi accorgo che la frequenza di taglio che sto applicando è di 7 kilohertz quindi abbastanza in linea con il segnale che abbiamo detto prima intervenendo col tono vado a tagliare parte del segnale basso quindi questo qui è un circuito solo difatti questo è il circuito per esempio del pick up al bridge il pick up collegato al neck è fatto nello stesso modo anche lui esce con un potenziometro del volume che adesso provo a disegnare qua in modo simmetrico quindi questo qui è il neck avremo anche qua il suo potenziometro avremo dall'altra parte il condensatore e l'altro potenziometro che fa da filtro e poi infine il pick up quindi questo qua è il neck quindi questo bridge questo neck poi sono collegati a un selettore che viene posto su una delle spalle questo selettore ha tre vie e è un selettore un po' particolare perché non è un deviatore questo vi permette di collegare solo uno dei due quindi scegliere se far suonare quello al bridge o quello al neck oppure eventualmente di metterli insieme tutte e due quindi andare a prendere il suono sia da uno che dall'altro quindi li combine insieme in modo che tutte e due vadano verso l'uscita dell'amplificatore vi faccio vedere i segnali che ho rilevato un'altra cosa interessante anche perché ho cercato online ma non si trovava niente vedete qua il selettore dei pick up con cui andate a scegliere uno o l'altro quali sono i volumi dei due pick up quindi uno per il collo e l'altro per il bridge e quali sono i toni abbinati ai due pick up questo è il segnale generato quindi vedete questa è la prima corda quella più grande vedete che si vede una fondamentale con delle armoniche sommate non sono moltissime sale e scende qui perché col dito ovviamente c'è un attacco che fa sì che il segnale inizialmente sia molto alto e poi pian pianino scende si possono vedere proprio a occhio le varie forme d'onda che si sommano sommate e vanno a comporre il suono che è abbastanza particolare qui vedete invece una forma pura quasi una sinusoide pura questo si può ottenere facendo suonare gli armonici cioè facendo suonare la corda andando a sfiorarla con il dito sulla parte centrale di solito sul fret numero 12 spero sia stato un video interessante magari non solo per gli elettronici magari qualche musicista è capitato qui e può capire forse meglio come funziona il suo strumento e magari anche come modificare le parti interne e il circuito soprattutto di controllo dei toni probabilmente si può fare qualcosa di più raffinato rispetto al circuito base mettendo magari un controllo degli alti dei bassi modificando un po' i potenziometri lascio a voi questi approfondimenti vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao